Ciao, Gildina. Ciao, Max. Ciao, Gildina. Programmi per oggi? Ah, sì. Molte, molte cose oggi, Gildina. Ho grandi progetti. Me ne starò qui seduto ad aspettare che Katie torni a casa. Oh, com'è eccitante. Beh, non voglio interromperti. Ho molte cose da fare anch'io. Ecco qua. A più tardi, Chloe. Stammi bene, Mel. Ciao, pisellino. Ci vediamo, Gino. Ciao, Carletto. Ciao a tutti. Ciao, Carletto. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh.